In Abruzzo sono circa 176.000 gli studenti che attendono la riapertura delle scuole fissata per il 12 settembre. 1.270 invece sono i plessi scolastici distribuiti sulle quattro province. Dopo il sisma del 24 agosto scorso, l'attenzione è concentrata sulla sicurezza degli edifici che ospiteranno gli studenti. E così, numerose sono state e le modifica la data di avvio. Teramo è stata capofila, fissato per il 19 settembre, l'avvio delle lezioni a causa di operazioni di controllo da parte dei tecnici e soprattutto per la preoccupazione manifestata a gran voce dai genitori degli studenti che hanno chiesto verifiche approfondite e certezze prima di riaprire l'anno scolastico. Ad intervenire sulla questione arriva il governatore d'Abruzzo che annuncia un incontro dedicato a tutti i comuni teramani presenti nell'area del cratere con la visita del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Intanto andiamo a Teramo, in provincia di Teramo, il 15 settembre con Errani e Curcio per fare il punto della situazione. Noi determineremo una prioritarizzazione per le scuole che hanno subito danni il 24 di agosto e poi partirà l'altro procedimento, quello che va ad assumere le risorse nel piano Casa Italia. In provincia di Teramo hanno subito danni nell'ordine Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Crogna Leto, Cortino, Teramo Città, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Montori Alvomano. Più seguiremo altre segnalazioni che tra Vigile del Fuoco, Genio Civile, Arma dei Carabinieri e strutture deputate alla guardiania del patrimonio pubblico noi stiamo raccogliendo e verificando anche con la puntualità delle schede A ed S della protezione civile. Intanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia ha dichiarato c'è preoccupazione ma non ci troviamo in una situazione di imminente pericolo. Nella giornata di oggi ad aggiungersi alla lista dei comuni costretti a far slittare la data di avvio delle elezioni si è aggiunto il comune di Montori Alvomano, avvio concordato per il 15 settembre a causa della caduta di intonaci e la necessità, dopo aver provveduto ai lavori di adeguamento, di effettuare polizie approfondite dei locali e organizzare gli studenti e tutto il materiale didattico necessario.